Il consigliere regionale della Liga, Attilio Pierro, ha presentato interrogazione per chiedere chiarimenti urgenti sulla carenza di personale presso il Presidio ospedaliero San Luca, Dea, Vallo, Agropoli e gli altri presidi ospedalieri della provincia di Salerno. Il Presidio ospedaliero di Vallo della Lucania versa in una grave carenza di personale di ogni ordine e grado, i cui effetti si ripercuotono sia sulla funzionalità di alcuni reparti e sia sul rimanente personale obbligato a svolgere numerosissime ore di straordinario per assicurare la copertura dei turni di servizio e raggiungere un target minimo di garanzie dei LEA. Le unità operative neurochirurgia, centro trasfusionale, malattie infettive, chirurgia vascolare, scrive l'esponente della Liga del documento inoltrato al Presidente della Giunta, sono i reparti con la maggiore carenza di personale medico senza dimenticare le difficoltà esistenti delle unità oculistica e otorino accorpati da anni, cardiologia e urologia. Il Presidio ospedaliero di Polla, la riattivazione dei posti letto della medicina, chiusi in occasione dell'emergenza Covid-19, di grande importanza per il territorio, oltre al potenziamento della dotazione organica del personale sanitario, richiede con urgenza la definizione di percorsi che mettono in sicurezza utenti e lavoratori attraverso le modifiche strutturali che si rendono necessarie. Dal momento la unità operativa complessa di medicina è allocata sullo stesso piano, ma in due corridoi non comunicanti tra loro. In alcune delle citate unità operative, denuncia Pierro con funzione di alta specialità, allo Stato hanno soltanto due dirigenti medici in servizio, tanto da non poter garantire il servizio di urgenza nelle ore notturne e che talvolta si vedono costretti ad inviare all'esterno i campioni di sangue per la loro lavorazione. La riapertura parziale del Presidio ospedaliero di Agropoli, certamente importante, ha richiesto il trasferimento di alcune figure sanitarie necessarie per farlo funzionare e che purtroppo sono state sottratte al Presidio ospedaliero di Vallo della Lucania. Ad oggi, precisa con disappunto il consigliere regionale nell'interrogazione, più di una direzione delle richiamate unità operative è affidata a un dirigente supplente non essendo stati ancora avviati concorsi per coprire i posti vuoti di dirigente di prima fascia, né tantomeno risultano avviate le procedure e gli avvisi per l'assunzione di infermieri e di tecnici la cui carenza molto spesso compromette il regolare funzionamento delle unità operative. L'offerta sanitaria nell'area di competenza del Presidio ospedaliero di Vallo della Lucania è insufficiente per il territorio atteso il dato che alla popolazione i vi residenti nei mesi estivi si aggiunge quella dei turisti presenti nelle vicine località di mare. I disagi a cui è sottoposto il personale sanitario costretto a subire carichi di lavoro e turni oggettivamente intollerabili espongono tutti a notevole rischio, prima fra i tutti, i pazienti a loro affidati. Ho provveduto a chiedere risposte urgenti al Presidente De Luca per sapere se intende doverosamente intervenire e dare indicazioni per la soluzione dei problemi sui esposti, che si ricorda sono essenzialmente determinati dalla mancanza di personale sanitario sia presso il Presidio ospedaliero San Luca Dea Vallo Agropoli sia presso tutti gli altri presidi ospedalieri della provincia di Salerno, conclude la nota stampa del consigliere regionale della Liga Attilio Pierro.